Ciao, tu sei? Io sono Sepp e vengo dall'Alto Adige. Senza essere lunghi la salsa è quella ai funghi e lo spec viene giù dai monti, sposta gli orizzonti. Mi senti gli orizzonti che si spostano? Per noi è il tuo! La selezione continua. Prova il tirolese con spec alto Adige IGP e vota il tuo preferito. McItaly, il gusto McDonald's, parla italiano. Tutututu!